Chiusura del convitto nazionale dell'Aquila è corsa contro il tempo per cercare di garantire l'apertura per il prossimo anno scolastico. L'Ufficio Scolastico Regionale e il Ministero dell'Istruzione hanno accolto il grido d'allarme di dolore per l'imminente fine di un'istituzione scolastica cittadina vecchia di due secoli, accogliendo le proposte anti-chiusura individuate dalla rete che mette insieme la CGL e le associazioni studentesche Link, UDS, School in Progress e Movimento dei Giovani di Sinistra. Tra le soluzioni messe in campo per il lungo termine c'è il coinvolgimento delle società sportive che sono un importante bacino di utenza per il convitto cotugno. Non si esclude inoltre la possibilità di consentire ai minori non accompagnati l'ingresso al semiconvitto. Fondamentale sarebbe poi un'aderoga di almeno tre anni ai parametri ministeriali non solo per il convitto nazionale ma per tutto il clateresismico. Saranno subito istituite invece le borse di studio per gli studenti che hanno un reddito basso e verrà prorogato al 31 luglio il termine ultimo per le iscrizioni nella speranza che serva ad alzare il numero raggiunto a giugno. Attendiamo il momento delle iscrizioni, la fine delle iscrizioni per sperare in una buona riuscita diciamo. Quindi è una soluzione a metà, non è detto che ci se la faccia superare ad arrivare a questo tetto minimo? Purtroppo sì, noi ovviamente speriamo nel meglio. Va riconosciuto e comunque c'è stata finalmente almeno un'attenzione. Adesso come avevamo detto in precedenza l'importante è non fermarsi alla prima riuscita, alla prima vittoria ma è una guerra da portare avanti. Che cosa si deve fare concretamente per i prossimi anni per scongiurare veramente la chiusura del convitto? Sicuramente si devono aprire diversi tavoli che rappresentano le diverse problematiche della nostra città. Sicuramente la mobilità, sicuramente va avverto un tavolo con le società sportive che sono in difficoltà nella nostra città perché vanno promosse tutte le eccellenze come il conservatorio, il liceo coreutico, il liceo musicale, tutte grandi potenzialità della nostra città che troppo spesso non vengono sfruttate. I giovani della rete studentesca Quilana e la CGL rispondono così alle sultanze espresse a ieri dal sindaco Luigi Biondi. Apprendiamo del tardivo interesse della politica di maggioranza, scrivono in una nota, quello che merita la nostra città dobbiamo perseguirlo per diritto e non per favore.